Allora, per ben rappresentare le eccellenze territoriali in ambito enogastronomico, avete pensato a un evento ad hoc? Sì, assolutamente. Quest'anno, forse non tutti ne sono i dotti, ma il 2018 è stato dichiarato dal Ministero dei Beni Culturali l'anno del cibo italiano. E all'interno di quest'anno, proprio il 4 agosto, la giornata nazionale del cibo italiano. Allora, come amministrazione comunale, ci siamo detti perché non organizzare qualcosa che possa promuovere al meglio il nostro territorio, che forse ancora non tutti conoscono, attraverso quelle che sono le eccellenze gastronomiche locali. E quindi da qui questa idea di organizzare una serata al Museo del Bali, che è un po' l'eccellenza culturale di Collio il Metauro. Quando si terrà? Dove? A che costo? Allora, la serata si terrà sabato sera 4 agosto dalle 18.30. Si inizierà con un momento formativo, attraverso una conferenza, che è più un percorso, che guida il visitatore attraverso la storia del cibo locale. La serata, la cena ovviamente, per motivi organizzativi, è a pagamento ed è a prenotazione obbligatoria, al numero del Bali 0721 89 23 90. E costa 20 euro. Dopo cena però è previsto un concerto, un omaggio al compositore pesarese Gioachino Rossini, di cui quest'anno è il 150ennale. E ci sarà appunto un soprano, Elisabetta Cordella, con il suo gruppo. Per chi non lo sapesse, Gioachino Rossini era anche uno chef, e quindi si incastona bene questo ricordo nella nostra manifestazione. E dopo cena non potevamo fare a meno di godere le stelle, visto che siamo nel posto più dedicato. E saremo accompagnati dallo staff del Museo del Bali per visionare, vedere insieme la Volta Celeste e scoprire quelle che sono le immense ricchezze che ogni volta ci è dato di scoprire.